Ciao a tutti, oggi per letto, riletto, recensito, non si parlerà, non si recensirà un libro, bensì, alzo un attimino la luminosità perché non vedo bene, bensì una rivista. Una rivista, la mia città è Catania, che mi ha dato i Natali, anche se vivo nella provincia a circa 3 km dal centro, una rivista importante che nasce per volontà di Tiziana Nicolosi ed è il suo progetto che abbraccia il PRESS, quindi la rivista di cui parlavamo, una dimora dove si organizzano degli eventi e delle rassegne con cadenza quasi primestrale, così come l'uscita del PRESS e tutto quanto orbita attorno a questo progetto che opera Commons 1789, data importante, ha un'impostazione e un tema specifico per ogni numero che esce. Prendiamo il primo numero che è uscito a marzo del 2016, opera Commons OC PRESS, marzo del 2016, dove la grafica è curata da Laura Dagare in arte un tatang e all'interno ovviamente vi sono diversi contributi di diversi artisti, scrittori, disegnatori e quant'altro di rilievo importante, perché? Perché la qualità è quella sulla quale ha puntato Tiziana Nicolosi e la qualità non sta a significare che vi sia però discriminazione, divergenza o altro, bensì dove tutti si è a un certo spessore di livello. Il design therapy, per esempio, Luigi Patitucci, o l'apertura all'editoriale, curato dal qui parlante Salvatore Massimo Fazio, ci tengo a presentare questo, ovviamente come rivista, perché presenterò una rivista al mese per letto di letto recensito, però questa è perché nasce a Catania e perché ovviamente ci sono io, autoreferenzialità. Ho altri personaggi, all'interno vi è anche il calendario della rassegna che si crea, che viene fatta quasi trimestralmente presso una dimora che si trova da Cibonaccorsi che si chiama Opera Commons pure. Opera Commons è un grande progetto, un grande progetto artistico, ludico, giornalistico, che coinvolge tutto e nasce da un'associazione onlus, quindi non ha uno scopo di lucro. Il lavoro e l'impegno di Tiziana ha sortito in breve tempo, un anno, un anno e mezzo circa, con i suoi collaboratori che sceglie, collaborano, cooperano, c'è chi si allontana perché ha altro da fare senza nessun problema, non viene rimpiazzato perché la squadra è ben forte, ben formata, ma ovviamente la più forte rimane lei, il capo, la madre, Tiziana. Ogni volume del press ha un tema. Questo qui è quello di giugno 2016. La grafica è curata da, me lo sono dimenticato come un classico, da parte mia, da Alice Caldarella. Si raccontano diversi temi, anche temi di quel momento. Addirittura ricordo una rassegna musicale, artistica, grafica musicale e anche letteraria, legata a un problema che attraversava il settore della psichiatria in Sicilia. La rassegna fu, guarda caso, ma non volutamente, intitolata bipolar. Quello era un periodo di fermento, un anno fa, ancora continua, nella nostra terra perché molte persone rischiavano il posto di lavoro e molte persone rischiavano di non sapere dove andare a vivere. Vengono intaccate quelle piccole comunità che sono delle case dove vivono delle persone con hanno avuto dei disagi psichici che poi col tempo si sono riabilitati, reinseriti e hanno cominciato a vivere assieme case famiglie, comunità alloggio, case protette e altro, anche se vi sono delle differenze. Quindi il taglio sociale è essenziale nel progetto di Tiziana Nicolosi, ma anche quello ludico, artistico, formazione, gruppi che si creano, scuola, sempre virgolettato perché è un'associazione onlus. Il prodotto è ben distribuito in tutta la città di Catania e in provincia dietro, ovviamente c'è sempre lo storico logo con qualcosa scritto in fondo, l'indirizzo della sede, della dimora dove si crea tutto e basta, non ho nient'altro da dire, non è un libro, ogni volume, come dicevo, legato alle rassegne e l'attività che sviluppa, crea e inventa Tiziana Nicolosi ha un tema. La bellezza sta nel fatto che ovviamente una rivista non può avere cento pagine e le persone che cooperano e lavorano con Tiziana sono sempre ben pronte a presentare i novus che possono collaborare e contribuire poi la stessa in una tavola rotonda, fa una cernita al fine di prendere gli articoli che rende più validi per il momento storico e per quello che sta proponendo. Un voto. Alle riviste non si decide di non dare un voto, però così come è ben strutturato, ottima carta, brossura, pubblicità della rassegna all'interno, sembrerebbe tutto fatto in casa, invece non lo è. Abbiamo violenza di Raffaele Auteri, bellissimo articolo, invece non lo è perché questo volume nasce con questo che è dedicato al gran Gugnollo, si lancia bene, prima partendo con poche copie e arrivando in un anno e mezzo a una tiratura che si è quadruplicata, poche copie si intendeva si intendeva un 150, quindi se è quadruplicata la vista è ben accorta negli ambienti tutti. Ciao e alla prossima!